Spigolature storiche per la data del 24 febbraio. Ne parliamo con l'Avvocato di Meglio. Cosa successe a Dischia? Il 24 febbraio di qualche tempo fa, praticamente nel 1495, successe un fatto veramente che venne riportato da tutte le cronache dell'epoca. Perfino Quicciardini, nella storia d'Italia, narra questo fatto. Sappiamo che Carlo VIII era sceso in quell'anno dalla Francia per prendersi possesso del regno di Napoli. Il re di Napoli, Alfonso II d'Aragona, abdica e scappa in Sicilia. Il potere viene preso dal figlio giovane, molto amato, Ferdinando II o Ferrantino o Ferrandino, il quale ha pronta tutte le difese. Però i napoletani si accorgono che ormai Carlo VIII sta alle porte di Napoli e quindi pregano il re di andare via per scongiurare la devastazione della città, il saccheggio della città. E lui, la mattina del 24 febbraio 1495, lascia Napoli per venirse a Ischia, fa una breve sosta a Procida e poi punta le vele sul castello di Ischia. Però qui ha una sgradita sorpresa, nel senso che il governatore dell'isola ha già preso accordo con il re di Francia, questo tal Giustino della Gandia, e rifiuta di aprire le porte del castello al re. Il re non si lascia prendere la sprovvista, chiama una guardia e dice voglio parlare con il governatore. Appena sta faccia a faccia con il governatore, trae un pugnale dal fodero, scossa il governatore militare, taglia la testa, butta il corpo da sopra il maniero e poi fa murare la testa alle porte del castello. Perché deve essere diponito a tutti quanti, che nessuno si deve permettere di tradire. E quindi questo fatto è ricordato da tutte le cronache e riporta Ischia al livello, proprio al centro della storia nazionale e internazionale. Con Re Ferdinando ci stanno anche tanti personaggi, ci sta Beatrice Duncherie, ci sta Costanza Davalos, ci sono i suoi fratelli. Quindi veramente tutto il regno si sposta sul castello di Ischia.